La chiusura forzata a causa del Covid-19 ha frenato anche l'export sardo, già in sofferenza nel 2019. Nei primi sei mesi dell'anno scorso infatti è calato dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ma come sarà la ripresa post-coronavirus per la Sardegna? Quali azioni bisogna mettere in campo? Ne abbiamo parlato con Ciriaco Offeddu, esperto nei processi di internazionalizzazione e da anni impegnato per far conoscere e valorizzare le produzioni locali in Oriente. Sarebbe l'occasione proprio per riproporsi nel modo giusto perché in questo momento un po' in tutto il mondo sono tutti in attesa, come siamo noi in attesa. Quindi questo è il momento di fare una presentazione della Sardegna. La presentazione della Sardegna, io parlo essenzialmente dei mercati dell'Est, quindi dei mercati del Medio Oriente e del Far East, quindi Asia, eccetera. La Sardegna non si è mai presentata in modo strutturato, in modo completo, per cui di fatto la Sardegna non è conosciuta. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa perché altrimenti viviamo di illusioni indotte dal nostro essere orgogliosi di essere sardi perché si confonde la presentazione di una terra e di una regione come la nostra, che è un po' un continente, si confonde con la partecipazione a Fiere. Generalmente si danno soldi ad alcune aziende, poi soprattutto molto limitato questo numero di aziende, per partecipare a Fiere in tutto il mondo. Però poi non c'è una continuation di questa attività e soprattutto non c'è una presentazione della Sardegna. L'intervista è integrale, la potrete vedere durante il telegiornale della sera.